Ok guys, eccoci ritornati in un nuovo episodio Alla guida e allo sblocco dei trofei e gli obiettivi Ci troviamo nuovamente su Dragon Ball Raging Blast 2 In questo episodio, signori, vi mostrerò come sbloccare il trofeo barro obiettivo e il guerriero solitario Per poterlo fare dovremmo scegliere, dobbiamo fare una battaglia Con, scegliendo C-17 e C-18 E mettendo come avversario Gohan del futuro Super Saiyan Ok, vabbè, qua a parte il fei Vai Gohan, come on Gohan Vedi, devi switchare, va? Switchiamo C-18 Ecco, mi sembrava strano che non si fosse intromesso, signori Via Gohan, devi sempre non prescare Tanto vinco io, quindi non c'è neanche bisogno di farlo Però questi minigiochi erano carinissimi Via Ancora Ah, se non sbaglio erano 5 in totale Ah, devo anche caricare a Laura Come on Devo Devo fare più Come on Purtroppo non posso usare a Laura, signori Oh, hai rotto le scatole qua Fammi caricare a Laura adesso e vedrai Via, pallotto là Ti piacerebbe Come on Come on, gohan Via Ed è il momento, signori Di usare la tecnica super Via Vedi Oh, ricalmassimo Gohan Via Adesso dobbiamo premere RT più X Adesso, appena finirà la vita Lo sbloccherà Eccolo qui, signori Guerriero solitario Eccolo qui Eccolo qui, signori Va bene, signori Allora, direi che per quest'altro video è tutto Spero vi sia piaciuto quest'altro Mini guida Vi ricordo come al solito di votare Commentare, scrivere al canale Di metti piace La pagina di Facebook Su Twitter E di andare su G2S Per acquistare giochi Abbonamenti e dirci in sconto Noi ci vediamo in un prossimo video, guys Ciao